Entrando a far parte del nostro team RISC&Compliance, dedicato ai clienti del settore finanziario, le tue competenze troveranno la giusta valorizzazione e ti consentiranno di prendere parte a progetti legati a importanti realtà, sia del panorama nazionale che internazionale. Se hai un'errore magistrale in Economia o Finanza e sei interessato a temi legati alla valutazione dei rischi, all'interno all'auditing e alle normative del settore bancario ed assicurativo, mandaci il tuo CV.